Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Motore Salute. Questa sera affrontiamo un tema veramente molto importante, il tema della depressione. Pensate che sono oltre 300 milioni le persone che nel mondo soffrono di questo disturbo e in Italia oltre il 5% della popolazione ne soffre. Capiremo questa sera quali sono le fasce di popolazione più colpite e quali sono le conseguenze, qualche volta davvero molto importanti, della depressione. Ma parleremo anche dei sintomi e, perché no, di come combattere la depressione in maniera efficace, anche qualche volta grazie ai farmaci. Andiamo a conoscere la dottoressa Chiara Mirabelli, psicologa e psicoterapeuta. Buonasera, grazie per essere qua con noi. Grazie a voi. Intanto lo ricordiamo, non sono gli psicologi che si occupano di prescrivere farmaci, ma sono gli psichiatri. Ma la depressione è una malattia che se presa in tempo può essere curata anche con la psicoterapia. Assolutamente sì, nel senso che l'integrazione tra farmaco, quando ovviamente è necessario, non lo è proprio per tutte le forme di depressione, e psicoterapia, diciamo, è la strategia che sicuramente dà i migliori risultati. Nel senso che il farmaco è talvolta indispensabile, anche solo per poter accedere alla psicoterapia. Nel senso che ci sono dei momenti in cui il malessere è tale, per cui anche il pensiero farebbe fatica a seguire il filo durante il colloquio. Quindi diventa anche a volte un modo per poter accedere alla psicoterapia stessa. E poi in alcuni casi può anche salvare la vita, soprattutto nei casi in cui il rischio suicidario sia elevato. L'integrazione con la psicoterapia permette di poter lavorare sui nuclei più problematici che sono alla base della depressione e permettono di avere una maggiore, una remissione dei sintomi e una maggiore stabilità per la persona e benessere. Allora, facciamo un passo indietro. Che cos'è la depressione? Allora, la depressione è un disturbo psichico che affligge la sfera dell'umore, che nella depressione è tipicamente deflesso. Quindi c'è un umore basso, c'è la tristezza, c'è un sentimento di sé che è svilito, una bassa autostima. Ovviamente parliamo di una sintomatologia importante che... Non è il malumore per un giorno. Esatto, esatto. Non è il malumore per un giorno, ma è una cosa che può essere anche incredibilmente invalidante nel caso della depressione maggiore, che quindi può far perdere la motivazione a lavorare, uscire di casa, fa perdere il disinteresse per le cose della vita. Non è quel sentimento di tristezza che tutti noi abitualmente sperimentiamo. Diciamo che per capire come si sente un depresso, possiamo pensare all'esperienza che noi viviamo quando viviamo un lutto, che è un'esperienza molto dolorosa, che più o meno tutti nella vita viviamo, però lo viviamo, diciamo, in conseguenza della perdita di una persona molto amata e ci sentiamo proprio così. Poi il lutto ha una sua evoluzione e se non si complica una risoluzione. Nella persona depressa invece non c'è un evento luttuoso, ma c'è una sensazione sicuramente di perdita, forse di qualcosa di più profondo, che si vive all'interno della malattia e quindi è davvero un dolore acuto. Diciamo non basta la forza di volontà, come molti credono. Questa è la mia domanda successiva, perché spesso i familiari ti dicono tirati su, pensa positivo, esci, vai in palestra, vai dal parrucchiere, vai dall'estetista se sei una donna, ma il depresso non lo può fare. No, assolutamente. Non è che non vuole, non può. No, sì, sì, c'è proprio un blocco. C'è proprio un blocco e perché c'è questo blocco? Perché pensare a se stessi in questi termini così di mancanza, di svilimento, appunto come abbiamo detto di bassa autostima, fa sì che si abbia quasi paura a investire poi nelle proprie attività quotidiane e normali. Infatti molto spesso poi la depressione va a braccetto con l'ansia, sono anche associate. Questo provoca anche uno smarrimento nei familiari e a volte anche la rabbia. Smarrimento perché sembra di non riconoscere più la persona, che fino a poco tempo prima invece funzionava in modo diverso. E rabbia perché facciamo ancora fatica a fare i conti con delle malattie che non sono soltanto fisiche ma che interessano la mente. Che cosa stiamo vedendo dietro di noi nel video wall? Allora, stiamo vedendo i dati della depressione relativi alle diverse fasce d'età. Questa è una cosa importante, cioè la depressione riguarda tutte le fasce della popolazione e anche per quanto riguarda l'età in modo diverso ovviamente, ma è una malattia che interessa tutti. Diciamo che è un picco massimo, secondo i dati dell'OMS, che sono usciti nel 2017, ma che riguardano una rilevazione del 2015. Quindi è un picco massimo intorno ai 60 anni, ma è presente in tutte le fasce di età. È molto preoccupante, ad esempio nella fascia adolescenziale, perché sappiamo nei dati ISTAT che addirittura il suicidio è la seconda causa di morte per gli adolescenti. e questo non ci deve far dimenticare appunto che una delle conseguenze gravi delle depressioni, ahimè non curate, può anche essere la morte, non vuol dire che sempre, se arrivi a questo ovviamente, ma che il rischio suicidario va tenuto assolutamente presente. Sì, diciamo che purtroppo il rischio suicidario non è un rischio che capita soltanto agli altri, è un rischio che può capitare a noi e alle nostre famiglie e questo va tenuto in conto. Non è così lontano come noi vogliamo immaginare che sia. Esatto, allora andiamo a vedere Motore Salute TG con Elisa Masella. A tra poco. Buonasera e bentrovati a Motore Salute TG. Patate e viola, possibile arma di prevenzione per il cancro del colon. Il cibo è un'arma a doppio taglio, a seconda di come lo si usa può promuovere uno stato di malattia o essere di grande aiuto nella prevenzione di una serie di patologie croniche tumorali come il cancro del colon. A spiegarlo è Jairam Vanamala, professore associato di scienze della nutrizione della Penn State University, che ammette però che non è ancora chiaro come il cibo funziona a livello molecolare. Lo studio siglato da ricercatore della Penn State rappresenta tuttavia un importante passo verso la conoscenza. La ricerca condotta su un modello animale ha permesso di scoprire che gli animali nutriti con una dieta di elevato contenuto calorico e supplementata con patate e viola presentavano un livello di interleuchina 6 a livello della mucosa del colon inferiore rispetto al gruppo di controllo. I ricercatori americani hanno sottoposto gli animali da esperimento a tre tipi di diete. Una dieta standard con il 5% di grassi, una dieta di elevato contenuto calorico e infine una dieta di elevato contenuto di grassi ma supplementata con le patate viola. L'espressione dell'interleuchina 6 è risultata 6 volte inferiore negli animali nutrite con le patate viola rispetto al gruppo di controllo. I risultati sono stati analoghi utilizzando le patate viola cotte o crude. Questi risultati sono in linea con quelli di recenti ricerche che suggeriscono come le popolazioni che consumano diete ricche di elementi vegetali tendono ad avere tassi più bassi di cancro del colon rispetto a quelle che consumano molta carne. Il cancro del colon rappresenta la seconda causa di morte per tumore negli USA e in molte altre nazioni occidentali che hanno una dieta caratterizzata da molta carne e una scarsità di frutte vegetali. Molto importante a riguardo sono frutte e vegetali colorati perché contengono composti bioattivi quali antiocianosine e acidi fenolici utili nella prevenzione dei tumori. Con questo è tutto, ripasso la linea allo studio. Grazie a Elisa Masella abbiamo chiuso con un tema molto doloroso che è il rischio suicidario nelle persone depresse e abbiamo visto che la depressione può insorgere a tutta l'età oppure ci sono persone predisposte fin da giovani. Il primo episodio avviene sempre molto presto oppure può anche accadere più tardi? Allora, tipicamente è un esordio tra i 20 e i 40 anni, però è anche vero che ci sono, esistono le depressioni infantili, diciamo dell'1-2%, quindi per fortuna è una rarità. Esistono le depressioni adolescenziali e a volte capita che da un episodio depressivo si sviluppi poi una depressione cronica, una distimia e tipicamente la depressione tende a ripresentarsi, diciamo che si contano 3-4 episodi mediamente nella vita, quindi sicuramente magari prima di un esordio depressivo ci sono comunque dei segnali che lasciano intendere diciamo la presenza di un certo tipo di umore e di personalità. Ed è particolarmente importante riconoscere i segnali, ma la persona depressa può riconoscere i propri segnali? Beh, assolutamente sì, prima di tutto in modo molto chiaro una sensazione di malessere che diciamo quando ci si è immersi è difficile districarsi nei pensieri della depressione perché avviene anche proprio una distorsione cognitiva rispetto al mondo che circonda, nel senso che diciamo le informazioni vengono lette in modo tale che vanno a confermare il proprio disvalore. Quindi può diventare anche complesso percepire che... Si è una percezione distorta della realtà. Esatto, si può arrivare a questo. Però ci sono anche dei segnali molto visibili perché non ci sono solo emozioni ma anche comportamenti, quindi un certo rallentamento psicomotorio, una difficoltà a concentrarsi, una difficoltà a fare cose che abitualmente si facevano, una difficoltà nella memoria e poi ci sono dei sintomi fisici che spesso vengono dimenticati, però anche i problemi nel sonno, il mal di testa tipicamente e dolori di varia natura segnalano che nel corpo c'è qualcosa che sta succedendo perché il corpo sappiamo che è un tutt'uno con la nostra mente. Quindi sono segnali che il nostro corpo ci dà per evidenziare che il malessere è più profondo. Esatto, e che proprio segnalano che è come se non si riuscisse a stare al passo con le attività che normalmente si facevano, quindi un campanello di allarme e anche proprio diciamo una rottura con un equilibrio precedente, non soltanto il proprio modo di sentire ma anche il vedere che le cose che normalmente prima si affrontavano adesso non si affrontano più. Questo nel caso della depressione maggiore, nel caso della distimia che anche questo è un disturbo grave, invece di solito la capacità di poter stare nell'attività lavorativa e sociale è conservata però con una grande fatica da parte della persona. Allora andiamo a vedere Cinzia Boschiero con Motore Salute Europa, a tra poco. Benvenuti a Motore Salute Europa, oggi parliamo del congresso europeo EFIC, vediamo delle immagini che lo riguardano. Si è svolto di recente in Danimarca, a Copenhagen, il congresso europeo EFIC sul dolore e le patologie correlate. Si sono riuniti gli esperti dell'European Pain Federation dal 6 al giorno 9 settembre. Si è trattato del decimo congresso con oltre 3.000 partecipanti, ha avuto sessioni tematiche, specialistiche e sono state presentate tutte le novità nel settore della ricerca e della medicina del dolore, anche i progetti europei e internazionali. L'apertura alla presenza del presidente di EFIC, Christopher Wells, e del presidente eletto, Bart Morleon. Oltre a Thomas Tolle, del comitato scientifico, è stata l'occasione in cui è stato presentato, come vedete dalle immagini, il libro European Pain Management dell'Oxford University di Christopher Eccleston, di Christopher Wells e di Bart Morleon, disponibile da ottobre e che racchiude i dati più aggiornati della ricerca e cura delle patologie e della ricerca sul dolore. In particolare, un approfondimento è stato fatto a EFIC sui sistemi di gestione di ben 37 stati. Ci sono ben 740 milioni di persone in 37 stati che fanno parte dell'European Pain Federation, legata all'International Association for the Study of Pain. Inoltre, viene rilasciato un diploma europeo in medicina del dolore, che migliora gli standard a livello comunitario dei professionisti del settore. E il dottor Nicolas Varela ha ricevuto un premio relativo all'European Diploma of Pain, che è riconosciuto a livello europeo. EFIC, ricordiamo, ha anche dei giovani medici, ricercatori e ambasciatori. L'European Pain Federation è un'organizzazione professionale multidisciplinare nel campo della ricerca sul dolore e della medicina, che è stata fondata nel 1993. Rappresenta oltre 20.000 medici, ricercatori, fisioterapisti, psicologi ed altri esperti, tutti coinvolti nella gestione del dolore e negli studi più avanzati per la cura e l'assistenza. Tutte le informazioni sul programma e sul progetto che riguarda il congresso EFIC, anche per la prossima edizione, potete chiederlo a Motore Salute Europa, contattandoci via e-mail. Grazie per averci seguito per questa puntata e alla prossima! Grazie a Cinzia Boschiera. Allora, abbiamo visto che i familiari, oltre che la persona affetta da depressione, debbono stare particolarmente attenti ai segnali e le abbiamo raccontati. E adesso vediamo alla cura, come si cura la depressione. Allora, la depressione è una malattia complessa, che non ha una causa, ma ha più cause, quindi c'è una predisposizione genetica e c'è una predisposizione anche legata ad alcuni fattori di rischio, ad esempio traumi precoci, abbandoni precoci, separazioni gravi precoci. E diciamo, essendo una patologia complessa, anche la cura che questa richiede deve essere complessa e prendere in considerazione sia un aspetto farmacologico, sia un aspetto di psicoterapia. Combinare insieme queste due cure dà sicuramente risultati migliori. Il farmaco è assolutamente indicato nelle forme più grave di depressione, perché esistono tante forme di depressione, anche quelle che non rientrano esattamente nel maloale diagnostico, perché poi ognuno la vive in un modo del tutto personale. Ed è una malattia in crescita? È una malattia in crescita perché l'OMS ci dice che negli ultimi dieci anni nel mondo è aumentata addirittura del 18,4%, per cui questo è stato molto allarme, anche perché vuol dire avere una società malata ed è una malattia molto invalidante, anche proprio da un punto di vista, se vogliamo proprio metterla in termini economici, anche di incapacità di lavorare. Ah certo, invalidante e costosa per la società. Molto costosa, quindi sono dati che fanno sicuramente preoccupare, così come anche l'abuso poi di psicofarmaci per cercare di tamponare questi vissuti. L'automedicazione non va mai bene. Esatto, e purtroppo sappiamo che è molto presente, ma è molto presente anche un po' per la difficoltà ancora oggi ad accedere a figure, quali quello dello psichiatra o dello psicoterapeuta, con l'idea di apparire come matti, anche quando si sta molto male, anche quando si sta molto male. Purtroppo ci sono altre patologie nelle quali si ha il timore di evidenziare un proprio rischio, una propria malattia, ad esempio l'HIV, molto spesso è sotterraneo, perché non si ha il coraggio di andare a fare il test. Allora, ansia e depressione sono un binomio sovente importante e invalidante. Sì, perché ovviamente se io non mi sento adeguato, se io sento che non sono brava a fare le cose, che non sono più capace, ovviamente anche il compito più semplice mi manderà in crisi, quindi il mio umore deflesso farà sì che poi io svilupperò un'ansia, l'idea di affrontare anche le cose più banali, cose che magari prima non erano un problema. Che cos'è l'ansia? Beh, l'ansia è un sentimento che nasce da una serie, anzi non direi che è un sentimento, diciamo è un sintomo purtroppo, che nasce dalla percezione di una serie di vissuti che normalmente non si riescono a mettere bene a fuoco. Dietro l'ansia ci possono essere tante cose, ogni ansia è diversa e ogni ansia andrebbe un po', diciamo, letta nella sua specificità, perché ovviamente, diciamo, è un sintomo che non è correlato alla situazione che la persona sta vivendo, ma al modo in cui la persona vive se stessa. Quindi non parliamo dell'ansia fisiologica normale di fronte a una situazione nuova che tutti possiamo provare, ma delle ansie spropositate e invalidanti che paralizzano anche qui la persona prima di poter affrontare la... Quindi l'ansia anche da sola è una malattia? Beh, sicuramente è classificata tra i disturbi del manuale diagnostico del DSM, perché è un disturbo anche questo. Colpisce molte persone? Colpisce molte persone ed è molto più diffusa di quello che abitualmente pensiamo, anche perché si tende, diciamo, questo in generale nella società vale per ansia e per depressione, un pochino a nascondere sempre le difficoltà che si hanno. Si vuole sempre proporre un'immagine di perfezione e di felicità che non corrisponde in verità al vissuto reale, però ci stiamo abituando a cercare di proporre questo tipo di immagine, cercando di soffocare delle cose che invece fanno anche parte... Vengono poi fuori da sole. Esatto, vengono fuori da sole, ma poi fanno parte anche della normalità, cioè la tristezza, l'ansia, se non sono ovviamente, diciamo, in misura esagerata, fanno parte del vivere comune, cioè fanno parte dell'esistenza umana. Sì, l'immagine della persona giovane per sempre, felice per sempre, probabilmente è un'immagine, ma non può essere calata nella realtà. Allora, l'ansia e la depressione, abbiamo detto, sono un binomio pericoloso, l'ansia da sola bene non fa perché ci si sente paralizzati di fronte ai compiti più lievi. Proponiamo anche qui una terapia o una cura nel caso della sola ansia? Beh, sicuramente la psicoterapia può dare degli ottimi risultati. Ci sono dei momenti in cui può essere di conforto anche un aiuto farmacologico, mai da solo, mai da solo perché, diciamo, l'ansiolitico può diventare sicuramente un valido aiuto, ma l'obiettivo è arrivare ad affrontare determinate situazioni con i propri mezzi, i propri strumenti e anche le proprie fragilità e non c'è niente di male. Però sicuramente può essere un valido aiuto perché ci sono dei momenti in cui si fatica anche a uscire di casa. Quindi lei non è contraria ai farmaci, tu pur? No, assolutamente, non sono contrarie ai farmaci, penso che vadano integrati, che non se ne debba fare un abuso e che debbano essere sempre controllati. Infatti i lavori migliori, perlomeno per quanto mi riguarda da un punto di vista poi del benessere dei pazienti, sia sempre quando si riesce a fare un lavoro davvero integrato assieme allo psichiatra per trovare la soluzione migliore per quella persona, che non è mai uno standard. Quindi anche prendere la posologia di chi è in casa non va mai bene, assolutamente. Non va mai bene, assolutamente, questo è chiaro. Siamo tutti diversi. Per fortuna, siamo tutti diversi. Allora, ultimi consigli per i familiari, per i familiari delle persone depresse, per i familiari delle persone ansiose. Sicuramente in entrambi i casi il consiglio è di mettere da parte un attimino nei propri vissuti, come dicevo prima, anche di rabbia, perché vedere una persona che fatica appunto a essere ed entrare nella vita in modo apparentemente inspiegabile rispetto a prima, dopo un po', quando i tentativi di aiuto vanno a vuoto, crea davvero anche risentimento. Il mio consiglio è sicuramente quello di appoggiarsi ai centri di salute mentale del territorio, oppure se si decide di andare, in questo ci può orientare anche il medico di base o le proprie conoscenze personali per quanto riguarda i CSM. Se si va privatamente, il consiglio è sempre quello di consultare ovviamente gli albi, quindi sia dei medici negli albi provinciali che degli psicologi in quelli regionali, e diciamo far sentire la persona che soffre di tutto questo in qualche modo compresa, perché non ha bisogno dell'offerta di una soluzione, perché la soluzione non c'è concretamente, non gliela può dare un familiare, può stargli vicino e questa è la cosa più preziosa che può dare. Ma non si può offrire una soluzione come purtroppo chi vuol bene cerca di offrire, ma facciamo questo, prova a fare quest'altro, questo fa sentire ancora più soli chi sta male, perché fa sentire che non si viene capiti, non si viene capiti nella propria sofferenza, e fa chiudere ancora di più e rischia anzi di non condividere poi magari pensieri e sintomi che diventano sempre più negativi. Devo dire che è difficile star vicino a una persona malata di qualsiasi tipo di malattia, ancora più difficile è star vicino a una persona che ha un disturbo psicologico, psichiatrico, perché effettivamente nell'immaginario collettivo è possibile uscirne con le proprie forze e questo è da sfatare. Eh sì, l'idea del farcela da soli è veramente un falso mito, nel senso che l'uomo nasce nella relazione, si nutre della relazione, lo sviluppo psichico del bambino, come dire, nasce proprio all'interno della relazione con la propria madre, cioè i bambini, ma lo dicono studi di decenni fa, che vengono semplicemente nutriti e a cui non viene dato uno stimolo della relazione e l'affetto, addirittura si lasciano morire, perché la loro mente non cresce. Quindi noi nasciamo in questo, cresciamo in questo, perché non dovremmo averne bisogno nel momento in cui siamo in difficoltà, perché mai dovremmo farcela da soli. È contro natura, in verità, cercare in tutti i modi di farcela da soli e invece non affidarsi alle relazioni buone che ci possono dare delle cose importanti per stare meglio. Grazie per essere stata con noi, parleremo ancora di queste tematiche, perché sono tematiche davvero importanti che colpiscono molti di noi. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.